Ed ora parliamo di cultura. Da venerdì a domenica Porcari celebra la creatività di giovani artisti e talenti affermati. Piazza Felice Orsi ospita il Festival di Arte in Contemporanea Porcari, tre giorni ricchi di eventi e appuntamenti di grande interesse con la peculiarità di avere una varietà di artisti all'opera in strada per offrire opportunità di scambio culturale e momenti di incontro per grandi e piccini. Gli artisti partecipanti, 24 selezionati tramite bando scaduto a inizio giugno, esporranno le proprie opere e si esibiranno nei giardini di fronte al comune di Porcari con l'obiettivo di far comprendere e rendere partecipi dei processi creativi che stanno alla base della figuratività artistica. Sul nostro sito di lucca.it trovate l'elenco di tutti i 24 artisti che esporranno le loro opere.